Ciao a tutti ragazzi! Bentornati con Banana! Oggi continuiamo Quantum Break! Eccoci qua ragazzi! Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti all'inizio della terza parte del primo atto praticamente stavamo cercando di scappare dall'università, noi e il nostro fratello Will, poi all'improvviso diciamo è successo un problema, siamo tornati per prendere Will, per portarlo alla macchina, ma Will non c'era più, quindi stavamo rientrando dentro l'università a cercare Will. Eravamo rimasti esattamente così ragazzi, andiamo a cercare dopo che avevamo incontrato Bet. Allora, raggiungi la biblioteca, noi la stavamo andando. Allora andiamo in biblioteca, vediamo un po' attivatori temporali nascosti, niente. Lì attenzione c'è un attivatore temporale nascosto, qui possiamo vedere quello che è successo. Maledetto, eccolo. Allora, schivata temporale, premi LB per effettuare una schivata temporale. Bravo, ha preso a quell'altro. Merda, merda! Granata! Sì la granata, Rosorella la granata. Ho provato a fermare il tempo ragazzi, mi ha fatto fermare. Ok, qui c'è qualcosa che non va. Ok, mi ha fatto fermare il tempo. Mori, maledetto. E mori pure tu. Mortarci. Scusate ragazzi, ma ci devo prendere un po' la mano. Ecco l'artri, ecco l'artri. Andate gli alle spalle, come è merda, maledetti. Allora, ho paura che non mi vengono da qua. Devo arrivare alla biblioteca, è lì che l'hanno portato. Attenzione, che c'è qua? Fucile d'assalto. No, come tengo questo, non mi piace di più. Non fermarti, Jack. No, no, non mi fermo, non ti sei preoccupato. Tempo di capito, cazzo, sta a sta biblioteca e ci andiamo. Ok. Che è successo, che è successo? Jack, che è successo? Cosa? Ancora non sapevi che la Wilder ti stesse aiutando. E non era l'unica. Qui è meglio che non mi faccio vedere, ragazzi. Io già lo so. Qui è meglio non farse vedere, perché se poi ti vedono... Sono... Ok. Appena ho detto, oh, porca puttana, manco ho fatto un tempo a dirlo, oh. Ok, provavamo un po' qua giù. Vediamo questi tavolini. E te le sai andare. A me non mi piace questo. Questo è il Mitra, ragazzi. Non mi piace, vabbè, se si sparano delle raffiche piccole comunque è abbastanza efficace. Ok, ho deciso la luce, così mi vedo meglio pure io, però... Ok, ragazzi, ho cominciato a imparare ad usare il Mitra, raffiche piccole. Ecco, vieni qua, vi avvicinati, avvicinate. Bravo, ricarica mentre sei scoperto. Bravo, scimo. Oh, cazzo, ho detto a questo. Ho raccolto il Mitra. Scusa, eh. Porca puttana maledetta. Questo è il Mitra, quello che prima c'era io che era. Allora. Questi li abbiamo fatti fuori, sbragamo tutto. Vediamo se troviamo sta cazzo del biblioteca, eh. Questo è bello, ragazzi. Questo è il Mitra e quello che prima era fucile d'assalto. Maledetto. Non t'avevo mica visto, attesa. Ok. E dai! Vai, vai! Comunque, ragazzi. A me sto gioco piace. Piace parecchio. Devo andare nella biblioteca. Raggiungi l'esterno. Non posso perdere tempo. Devo trovare... Mi avete portato qui. È una biblioteca. Devo restituire dei cazzo di libri. Comando William Joyce nella biblioteca. Ecco, ragazzi. Quello è William. L'abbiamo visto. Sta' entrando nella biblioteca. Allora, andiamo, andiamo. Devo trovare un modo per entrare e alla svelta. Allora, vediamo un po'. Sicuramente potrebbe entrare... Non potrebbe entrare dal cancello. Quindi saltare a rampicare e premia. Oppure premia per arrampicarti sugli ostacoli. Ok. Perfetto. Lì c'è sta il faro per vederci a noi. Vediamo un po', eh. Secondo me gli devo fare qualcosa con sto canello. Non lo so. Ho questa idea qui. O se no... Aspetta. Qui posso risalire. Ecco, eh. Ecco, ragazzi, ho trovato. Perfetto. Mo' devo saltare qua sopra. Bravo! Deficiente. Allora, risaliamo qua sopra. Ragazzi, ci sono riuscito a trovarlo. Non avevo visto sto... Sto mausoleo qua a mezzo. Ecco. Su, non c'è tempo per questo. Eh no! Ah, è a tempo praticamente. Tocca pure... Allora, per rallentarla io che faccio? Blocca il tempo. Blocca il tempo. Ok, ragazzi. Dovevo semplicemente bloccare il tempo. Ok, adesso. Vediamo un po' se si riesce dentro sta cazzo del biblioteca. Abbiamo sta scala. Prendiamo la scala. Dobbiamo entrare dentro questa biblioteca maledetta. Ok. Rivellivolo 1. Il nucleo della macchina del tempo è in viaggio. Perfetto. Ci sono portati via la macchina del tempo, ragazzi. Sì. È caldo. Chi è stato? Porco due che scopi. Schiompettare. Qui sta a succedere qualcosa di grosso. Se ne siamo accorti già, eh. Non è che ci vuole un genio. Però diciamo che c'è qualcuno che ci ha salvato il culetto. Ok. Vediamo un po'. Will! Will! Ok. Will non c'è, ragazzi. Non c'è rispondo. Comando William Joyce nella biblioteca. Attendiamo ordine. Al passo. Ok. Questi stanno qua, ragazzi. Parlano troppo vicino. Eccola uno. E' chi qua, ragazzi? Nemico avvistato! Jack! Corri! Jack! Boom! Ecco la botta. Will! Porca vacca! Premi B. Anvedio! Crea uno scudo temporale e i proiettili ci rimbarzano. Dai, 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 Jack. Che sei schiccio questi superpoteri. No. Voglio il mitra. Fermate qua! Fermate qua! Maledetto! Ah, ecco il nostalio. Vediamo tutti da dietro. Dai, un po'! Stanatelo! Ok, ragazzi. Sono 2000. Poi arrivano contemporaneamente da una parte e dall'altra. Sul fianco. Eccolo. Ok. Arrivo. Arrivo, Will! Arrivo! Dove sta quest'altro che spara? Avessi preso una volta, però l'ho preso un testa. L'ho preso un testa, fanno così. C'è anche il casco. Però, vabbè. Quello di prima non ce l'aveva, ad esempio. Dai, dai, dai. Salve. Will! Non lo sai. Mortarci tu. Sto venendo a salvare. Ho mucchi di nuove robe senza senso che devi spiegarmi. Prima tirami fuori da qui. Eccoci Will! Eccoci Will! Dove la mia auto? Non mi piaceva il colore. Prendiamone un'altra. No, Jack. Mi serve... Ne parliamo dopo. Nell'auto c'era la mia valigetta. Te ne compro un'altra. Anche perché arrivano in parecchi, eh. Vedete? Arrivano dopo la raffica. In parecchi. Ok, se io faccio lo scudo. che dovrai spiegarmi. No. Hai teorie sulla capacità di manipolare il tempo? No. Che? Allora vedi di trovarne una. Fugia a pompa semi-automatico. Ok. Uno sta qua. Uno sta a salire qua, però... No. Ok, ragazzi. Ho visto un bel fucile a pompa Prima qua Allora che c'è uno dei armi? Ecco qua C'ho pure il pompa semi-automatico E non mi piace parecchio Addiva la verità Ok Allora ragazzi Addiva la verità Cioè Lo scudo ok La schivata credo che non è che la userò mai Non Diciamo quando blocco il tempo A volte lo fa A volte no Credo che dipenda dalla Dalla vicinanza del nemico Se il nemico è troppo lontano non lo possiamo fare Non è così semplice Jack Ti ho nascosto informazioni per tenerti al sicuro Al sicuro Guardati attorno Will Ti sembriamo al sicuro Non è colpa mia Beth mi aveva detto che sarebbe successo E ho fatto il possibile per evitarlo E a me cosa hai detto? Niente È che non potevo Da quanto lo sai Non c'è tempo per questi discorsi Bisogna recuperare la valigetta Ok Will si è messo in testa che dobbiamo recuperare la valigetta Recuperiamo la valigetta che c'è in macchina Will tu stai? Forza Dai Will Su Gori Will non apre le porte ragazzi Sappiatelo Chi cazzo è? Oddio dito corto Sto maledetto Che vuoi? Questo stava con noi Mortacci tua Guarda che maledetto Ma ci ha ammazzato no? Ciò che è necessario Pensaci Non hai idea delle conseguenze Conosco esattamente le conseguenze Per questo sono qui 25 L'unica volta frattura del tempo Mi sto dando l'opportunità di cambiare idea Gli eventi sono già decisi Non puoi cambiare il passato Il futuro Io li ho visti Li ho vissuti Per 17 anni 17 anni Eri tu Il primo esperimento Puoi unirti a me e realizzare il mio piano Può aggrapparti alla speranza E affondare Aspetta ho un dispositivo Posso fermare tutto Davvero Non puoi E' quello che non vuole lui Non costa nulla a tentare Invece si Per questo non posso rischiare Che tu mi fermi Will Non deve per forza finire così Non dobbiamo permetterlo Non mi arrenderò mai Dai Charlie Dai Charlie No 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 Questa è la mazza Rega questa è la mazza Aspetta Eccolo Eccolo No Innescate Non è ciò che volevo No No rega E' schiattato Will No rega Porca miseria No brutto così rega Va bene ragazzi Allora Questo terzo episodio Di quantum break Finisce così Sono rimasto un po' così ragazzi Perché Mo' io a questo Gli la devo far pagare Mo' al dito curto Tocca cercarlo Tocca fargli la pagare ragazzi Comunque Comunque Condividete Mettete mi piace Iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti 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 Grazie.